Ok, una terra, bravi, ok, gli ho distrutto buona parte della struttura, un'altra terra, dai che ne mancano pochissimi, ho finito le punizioni, posso solo andare col fucile a pompa, e ragazzi come va? Io sono Fierini, e io sono Stef, che si giocava Fortnite, e benvenuti in un nuovissimo episodio di Fortnite in cui andremo a provare subitissimo la nuova modalità che è appena stata aggiunta, quindi 5 team da 20 player, la vedi la minimappa? Sì, sì, sono tutti verdi, tutti i nostri alleati, non tutti, però Spieghiamo come funziona, praticamente abbiamo dei sottoteam di un team da 20, che è tipo una sorta di delirio, cioè io e Fierini siamo in team insieme e siamo soltanto in due, però facciamo parte di un team più grande, di una cosa più grande di noi, dove siamo in questo momento in 19, in alto a destra vedete la minimappa con tutti i punti verdi che sono i nostri alleati, allo stesso tempo possiamo vedere quanti vivi ci sono nel nostro gruppo, ovvero 19, e quanti player ci sono nella partita, ovvero 76 In modo da sapere sempre quanti dei nostri alleati sono ancora vivi, e se il nostro team sta vincendo su quello degli altri È una roba stranissima È molto strano Credo una rissa incredibile Esatto, ma poi sarà strano abituarsi, capito? Abituarsi a giocare in 20 e noi in due Uh, il nostro team vuole andare tutto a parco pacifico Andiamo a conquistare parco pacifico? Ma davvero? Ma siamo sicuri? Sì, andiamoci Qualcuno pinnacoli e qualcuno... No, andiamo Parco pacifico è la nostra città Ci piace anche a noi, è destino, è il nostro team, è quello giusto Hai notato, Steph, che nella mappa, se tu la guardi così, ci sono delle specie di bersagli, devono essere qualche nuova missione del pass battaglia Se tu puoi centrare in pieno, scendere esattamente in quel punto e noi fai 1 su 7, farne 7 è abbastanza faticoso, però ci sta Invece io ti voglio far vedere una cosa Cosa? Se tu premi M con la mappa, ti dici il tuo team 19, enemy team 1, 2, 3 e 4, con quante persone vive? Premi M Aspetta Le vedi? Ah, ok In questo modo puoi sapere quanta gente vive c'è di ogni team per sapere se il tuo team è in vantaggio sulle altre Ma è un casino, non puoi stare a guardare tutte ste robe, dai, guardi il tuo team se so vivi e ciao Fai, figata, scherzi, è una roba... Se vi vede là come una sorta di sfida di territorio Dove c'è il territorio Steph e Fere e il territorio Puzzoni 1, 2, 3, 4 No, voglio solo litigare, non mi interessa delle tue dicerie Ma io riesco a scendere su quel cerchio? Eh, lo vorrei fare Tu ce la fai Fere? Sì, lo voglio fare Io di pochissimo, porca miseria Già come? Me ne faccio uno di 7, mi faccio pure le missioni Amico, sono tuo alleato, non rubare la cesta Mi ha rubato Mi ha rubato lo shield Oh, mi ha dato il segno, credo, non lo so, vabbè, penso di sì che me l'abbia dato Quanto stile Eh, dove andiamo? Ma ci siamo solo noi, no? Ci saranno anche i nemici, sicuro No, secondo me no, Fere, siamo troppi per esserci nemici No, dai, non so Fere, siamo in venti in una sola città tra di noi Allora, fai attenzione, appena vedi qualcuno senza segnetto verde spara Beh, quello mi sembra abbastanza ovvio Tipo questo! Cosa? Qui sotto, sotto casa, Steph Fere, non puoi averlo trovato subito Sì, invece! È ancora vivo? Ho finito le munizioni! Devo ucciderla a piccone! Avevo solo una pistola e questo qua, Steph! Ma c'è un altro! Fere, esci da quella casa! Non sei tu! Non sei tu! È uno vestito come te per il nostro alleato Dove è finito quello là? Lo volevo uccidere, cavolo Non lo so, Fere! Ho sparito, Steph L'ho perso tra i nostri alleati Io vado in qualche casa, vediamo se è avanzato qualcosa Non so che dirti No, non posso andare avanti a pistola Le impriciole di pane, Fere Eh, ma non posso andare avanti a pistola E ho capito, però Porca miseria Ed è colpa mia! Sì! Mi sono arraffati tutto Eh, ma dovevi essere tu quella che ruba Steph, io sono scesa sotto E c'era un nemico Ci ho beccato l'unico nemico di tutta la città, evidentemente Che ti devo dire? Eh, lo so Questo qua, secondo me, mi dà un fucile Se gli ballo vicino Amico Col fucile a pompa Tieni, tiro soldi Dammi il fucile Dai, dai, vieni Vieni qua, vieni qua Fucile a pompa e tiro le banconote Tieni Va bene? Che stai a fare, Steph? Gli tiro soldi No, non me lo dà Non li vuole Cosa interessante Il nostro team 14 vivo Team 1 e 2 stanno andando malissimo 8 e 7 Team 3 e 4 sono in vantaggio con 16 persone vive E qui Fere stanno sparando Quindi siamo vicino a guerra Ok, ottimo Con la mia pistola farò sicuramente qualcosa Primi airdrop, voglio vedere tutti i palloncini Eh, sì 1, 2, 3 Sono distantissimi tra loro Ma che cavolo l'ho fatto qua? Ma porca miseria Ma che ne so? Ok, quello sta sparando Verso dove? Non ho idea Ok Oddio, fucile da caccia pronto Uh, lice loot Lice loot Dove, Steph? Dimmi dove loot A 30 gradi hanno ammazzato delle persone i nostri Grandi, grandi Ma non possiamo uccidere i nostri Quando esattivano Ma io lo posso Ah, posso anche rianimare la gente degli altri team Ciao amico Ti do una mano Ah, beh, sì, sì Ovviamente siamo sempre alleati Vai, sto aiutando un tipo a caso Dimmi Non è rimasto niente Neanche una pistola? No, ma proprio zero Te l'ho detto Siamo tutti poveri qua Uno ha buttato un vampa fucile Secondo me era per bersi lo shield Ma io gliel'ho rubato Hai fatto bene Ecco, lì un pompa Non ho niente Ti prego Non prendere il pompa Non prendere il pompa Non ti serve il pompa Non ti serve Sì che gli serve io Io l'ucciderete Io l'ucciderete Ho visto player a 105 Ok Adesso inizia la guerra Siamo un trenino noi Hai notato? Sì, anche se poi non ci siamo tutti No, molti sono ancora a parco pacifico Eh, però Ma che stanno fa? Ma che ne so Ci stanno rallendo solo la città Qual è il loro obiettivo? Non lo so Non lo so Però molti, ti assicuro, sono ancora lì, eh Ho visto, ho visto E ho notato che Oh, questo non è con noi Cosa? Questo non è con noi Uccidetelo Sopprimetelo L'abbiamo distrutto in 50 Cioè siamo andati Lut, loot, loot, loot Hai preso qualcosa? Sì È vergognoso È vergognoso Ho un fucile a pompa Ah, io ho trovato una mitra netta silenziata Che bello Ah, ma c'è anche il vampa fucile verde Lo vuoi? No Altra gente, Steph Di fronte a noi Dove? Di fronte a noi Qui sotto Qui sotto A 105 No, Ferre, non si capisce nulla con sta roba, eh È anche qui a 150 Eh, lo so che non si capisce nulla Uno sulla torre Sì A terra, ok Bravissima Lo voglio eliminare Ok, eliminato Un'altra terra Non andate a prendervi il loot della torre Accidenti a voi L'ho ucciso io, ragazzi, eh No, 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 no Non mi rubare il loot Dai, amico Dai, l'ho buttato giù io Ma anche questo l'ho ucciso io Voglio il loot, scusatemi, eh Ah, aspetta Ma l'hanno rubato, vero? Ok, ho un fucile a pompa No, ecco, ecco Sei riuscita a prendere qualcosa? Sì, un M16 verde Oh, brava, 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 brava Un M16 verde Prendo anche queste granate Dai, non male Mi manca ancora il fucile a pompa Il che è un grosso problema Io non ho colpi delle M16 Ne ho 30 E io ne ho 66, Steph Ho dovuto luttare questo qua Che poverascio non aveva nulla, guai Che ti devo dire? 22 persone vive Il nostro team è in 14, Ferre Stiamo andando a grande Uh, c'è guerra Ok, andiamo Dietro di noi Ok Dove, 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 dove Non vedo È un casino È un casino Io non capisco Ah, sì, li vedo È morto? No Eh, salta parecchia a terra L'ho buttato giù È mio il loot, è mio il loot Ho preso le M16 Bravo Blu Oh, lo scar L'hai preso? Sì Io ho preso le M16 blu No, l'ho preso io Cavolo Ce l'ho io, ce l'ho io, ce l'ho io Il problema è che non ho colpi Nello scar Gente viva Lo vedi? Sì È abullato È lontano poi, eh Uh, l'ho sfiorato Uh, basta, basta Non mi colpite Preso in pieno Preso in pieno Hai un fucile da cecchino o qualcosa? È il fucile da caccia Ok, ottimo Eh No, sono nascosta qui Dovremmo andargli addosso Sono solo in due, giusto? Ferre, no, ci sono 14 persone vive Oltre i nostri 13 Ah, ok, ok Però sono dei vari team Ah, ok Occhio Porca miseria Che paura Non stavo capendo bene con tutti questi numeri Lo so Però adesso ho capito che mi è chiaro Ok, ok C'è gente che continua a sparare da 240 Ok Zona del lago Mi sa che c'è ancora gente Ferre, ci arriva un team da dietro Ok Vieni, 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 andiamo a ristare Arriva, 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 arriva Ad ovest Ok Ok Ok, ok C'è una rissa incredibile Nella casa moderna credo siano entrati Sì, sì Mi sembra di sì Anche perché vedo missili volare in quella direzione Esatto, esatto, esatto Andiamo a fettare questi Perché quelli ad acri Tanto stavano bullando molto Ok E io non ho colpi Quindi non posso Ma io poi non li posso neanche andare addosso Perché non ho trovato ancora il fucile a pompa Il che è un grosso problema Sì, sì, sì C'è rissa Andiamo Dove ricaricare il fucile Ok, lo ricarico Forse li hanno già buttati giù Questa trappola chi l'ha messa? No, lo sparano Occhio perché c'è una trappola Ok Dove è la rissa? Votato giù uno Ok Lut Lut C'è un fuggile a pompa C'è uno scar Fuggile a pompa No dai, perché me l'hai rubato Te lo do, te lo do, pronta Veloce vai Grazie 5 colpi, vabbè Ho lo scar con 200 hit Ok, bravo 11 persone vive E noi siamo 11 di team ancora Ok Siamo in vantaggio Però c'è un tipo da restare lì, poverino Forse ci pensa quello Andiamo? Guerra, guerra, guerra Sì, andiamo, andiamo, andiamo È una figata questa roba No, è bella È una figata C'è un tipo che sta spammobillando lì Lo vedo, lo vedo Aspetta, vediamoci il ritorno Io c'ho colpito il poppet 30 delle M16, Steph Cavolo Lo vedi? Sì, lo vedo, lo vedo Il problema è che non c'ho colpi Hanno cambiato il rumore dello scar Sì È stranissimo Eh sì L'ho notato adesso Ci arrivo con una bella granata Non proprio Io ho pochi colpi Dov'è il maledetto? Intanto, intanto Una terra Colpito Vai a lutarlo, vai a lutarlo Andiamo, andiamo, andiamo Ma c'è sto poveraccio da restare Eh, pazienza Un bischino Vabbè, torniamo dopo Lo resterà qualcun altro Ok, lanciano missili, eh Sì, sì, è il nostro team, quello Eh, lo so, però si ci... Ui Ti hanno idato? Sì Ok Prendi tutto quello che c'è Ma che bella, una povertà Ah, vabbè, lo shield Lo shield me lo prendo? Ah, vabbè, te lo sei preso tutto È abbastanza povero Siamo in dieci Ci sono altre nove persone Ok E un dieci versus nove Alla fine Sono tanti team Ma stanno mezzo collaborando Tra di loro Tra una cosa e l'altra Ok Lì c'è qualcuno Allora Ma porca miseria Qui, Steph Mi ha buttato giù Non ci ho capito niente Non si vede la freccetta Uff Non avevo capito Che non era giù Il nostro team ha aiutato questo qua Senza volere Sì, sì Sì, sì Sì, va bello Scarlett L'RPG Vai, va, va Non ci credo Steph, tirami su, tirami su Stavo continuando? No Porca miseria Volevo nemmeno Cambiarmi le armi Ma il gioco è troppo poco smart È un delirio Stavo lasciando un tipo Mi hanno tirato un missile sul mio ponte E mi hanno buttato giù No, vabbè Vabbè Dimmi te C'è qualcosa per curarti? No Ho uno shieldino da bermi e basta Se voi ti accompagna qualche airdrop Non lo so No Facciamo una roba del genere totalmente folle Uccidiamo gente Ricarichiamo Ok Sette persone vive E noi siamo in nove Quindi nove contro sette Ovviamente sono di vari team E viene questo airdrop Va bene Qui sotto sicuramente c'è qualcuno Arrivo Sì Secondo me qua sotto c'è qualcuno E allora occhio Tranquilla Tranquilla Vedo billare Un cechino Scilentio Ma da dove? Ah lì giù Eh sì Eh sì Ma come facciamo? Se billiamo Pieno a pieno ci arriviamo Riesci a aprirlo? Sì Medikit Minigun Vabbè Un po' uno schifo Però me lo prendo Shield grande Shield grande Me lo prendo Ok E basta Adesso vado in un angolino A tirarmi tutto Eh io ho 18 di vita Ora Porca miseria Porca miseria Ti posso dare lo shield grande? I need a medic I need a medic Lo so lo so tranquilla È diventata una guerra di trincea adesso eh Comunque il team con più gente è 6 Quindi un 9 contro 6 alla fine E stanno continuando a cercare di sniperare i nostri amici che sono venuti qua Uffa Non voglio giocare difensiva la parte finale del game Uh Bravi State calmi Aspetta va Iniziamo a dare una mano a su un dimissio E gli sto buttando giù la struttura Da veri il tipo? Sì ma lo stiamo mitragliando in una maniera che non si può eh Beh è giusto così È terribile l'assalto Dai 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 Su andiamo Su andiamo amici Andiamo 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 Ci sei Steph? Una a terra È già lì Non so più dove sei No io sono dietro Fere basta che guardi le frecce Io sono blu Gli altri sono verdi Ah eccoti Ok hai capito? Sì Uh occhio che qua stanno arrivando missili Lo so Bisogna ucciderlo eh Amico ti prego lasciami una cura Aiuto Bisogna uccidere quello che lancia a raggi Il più fastidioso in assoluto Lo so Mi sta tenendo shieldini io Non so che non è un buon momento però Allora uno l'ho colpito Gli ho tolto shield e anche vita Ok Quindi ottimo un altro Vediamo se riesco a colpirlo Ok miseria Ha finito un nostro avversario L'ho comunque colpito Ti arriva addosso Steph eh Stai scherzando? Sì ne hai uno sotto Ok giù Ok perfetto Amico ai cure? Ok Cavolo quanta gente Cavolo Gli ho otto colpi di tutto Steph Tu sei zitto Che combini? Il panico Sono in mezzo alla loro base Che mi curo Uh lì c'era uno scar Cavolo quanto lo vorrei Tu non hai idea È pieno di roba in giro per terra Ce l'ho fatta C'è anche le ripigili Ho nove colpi Il problema è che ho nove colpi Eh l'ho capito Ma andare lì è un po' un rischio Faccio una corsetta 7 contro 4 comunque Stanno continuando a sparare i missili Per i colpi Il rifigi me lo prendo grazie È un colpo Cioè ho proprio la povertà più assoluta oggi Vieni via vieni via vieni via Non mi piace questo tipo che abbiamo qua Sto tirando troppo l'attenzione Nel modo più sbagliato Sì 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 Almeno adesso ho 115 colpi del fucile a pompa Quello là che era lì Aveva solo colpi del fucile a pompa Cioè gli altri probabilmente li hanno già presi Non lo so però Ok Ok Una terra Bravi Ok gli ho distrutto buona parte della struttura Un'altra terra Dai che ne mancano pochissimi Ho finito le munizioni Posso solo andare col fucile a pompa Voglio andare col fucile a pompa Quanti ne mancano? Secondo te Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Bellissima modalità.